Una tentata estorsione da 96.000 euro e una invece riuscita da 16.000 poi restituiti ai danni dei titolari di Alassio Ambiente, la società temporanea che gestisce l'appalto della raccolta rifiuti nella città del Muretto. Sono le accuse che i sostituti procuratori Chiara Venturi e Massimiliano Bolla hanno contestato in concorso a Pierpaolo Pizzimbone, ex commissario provinciale di Fratelli d'Italia a Savona, e Mario Laporta, 72 anni pensionato, ex consigliere comunale di San Bartolomeo al Mare. Le accuse sono state formalizzate anche nell'avviso di conclusione delle indagini inviate ai due in precedenza sottoposti a arresto e anche all'ex assessore all'ambiente del comune di Alassio Rocco Invernizzi, anche lui indagato per tentato abuso d'ufficio relativamente all'appalto di pulizia e manutenzione strade alla Corintea, società di cui Pizzimbone è sospettato di essere socio occulto. Notifica anche per la consigliere di maggioranza sempre del comune di Alassio Paola Cassarino. Invernizzi alla Cassarino sono infatti indagati anche per tentata induzione per una presunta richiesta di quest'ultima ad assumere la figlia. Le indagini messe in atto dalla squadra mobile di Savona erano scattate a seguito della denuncia dell'associazione anti-racket di Gela a cui si erano rivolti gli imprenditori di Alassio Ambiente.